Buongiorno Fagnano, eccoci con il video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Per quanto riguarda i cantieri, in questa settimana si sono svolte le piantumazioni. Dietro al monumento dei caduti è stata creata la quinta, richiesta dalla sovraittendenza ai beni culturali, ed è stato creato un nuovo viale alberato, la via Aldomoro. Lì sono state piantumate un bel po' di alberi. Per quanto riguarda i ripristini dei tagli strada causati dalla fibra ottica, riprenderanno appena le temperature incominceranno ad alzarsi. Quindi tenete presente che la chiusura in cemento non è la chiusura definitiva e presto verranno, speriamo, nella prima parte del 2024, chiuse e riportate al meglio le nostre strade. Gli eventi della settimana. Da segnalare, molto importante, il concerto di Natale che si svolgerà sabato 23 alle ore 21 nella chiesa di San Gaudenzio. Dopo il concerto, al termine, raggiungendo a piedi il castello, nella sala Camino, la Proloco, organizzerà proprio lì, nella sala del Camino, lo scambio di auguri tradizionali per il Natale con panettone, bilbrulè. Non avendo nient'altro da aggiungere, vedete così la pelata sta più calda. Voglio augurare a tutti voi un sereno Natale, a tutte le vostre famiglie, a tutte le persone, anche alle più difficoltà, va il più grande abbraccio da parte del Sindaco, dell'intera amministrazione comunale e di tutti i dipendenti del nostro Comune. Buon Natale a tutti voi, cari Pagnanesi.